Tra qualche minuto sarà presentata la pallacanestro Cantù qui in Piazza Garibaldi e qui con noi c'è uno dei volti nuovi della formazione bianco-blu Michael Jenkins a quale chiediamo se è pronto per iniziare la nuova stagione in Serie A Are you ready to start this new season for your higher level than the year before? Piccola introduzione però continuiamo The higher level for you, are you ready? Yeah man, I'm excited for it man, last weekend of preseason action and ready to get to it man I've been waiting for this so I'm pretty excited about it Il evento è molto ansioso, excited about that, cioè voglia, tanta voglia di giocare e di iniziare L'anno scorso, la settimana scorsa è stato un weekend tosto di partite Il piccolo game intanto passa, ma fa niente, lui può fare tutto È un weekend tosto e non vede l'ora di iniziare E l'altra domanda, al Trofeo Lombardia ci sono stati tanti tifosi And what about the crowd? In Desio you see a lot of Cantù's people I loved it man, everybody, even before I signed here When I was trying to make my decision Everybody that's played here before in Italy Or, you know, maybe a play here in Cantù Tell me, the fans are some of the best here in Italy It gets real roundy And I saw that in Desio this past weekend So I can't wait, I feed off that, so I'm gonna love it Si, ha detto che non vede l'ora di giocare con i tifosi alle spalle Tutti, prima che lui firmasse, prima che lui decidesse cosa fare Gli hanno detto che il tifo di Cantù era molto rumoroso, molto duro Tutti quelli che hanno giocato a Cantù o contro Cantù gli hanno detto questo Non vede l'ora di iniziare perché lui si gasa molto quando ci sono queste situazioni Thank you so much Michael No problem